Due Fiat Panda si sono scontrate nel pomeriggio di sabato 24 settembre, poco prima delle 17, in via Valperga, tra Busano e San Ponso, nel territorio di Valperga. Entrambe le vetture, dopo l'impatto, sono uscite di strada. Una delle due si è ribaltata sul prato che costeggia la carreggiata, mentre l'altra ha terminato la soccorsa nel posso. Sul posso sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa. Il bilancio è di tre feriti trasportati all'ospedale di Ciriè. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. La sua preghetta è stata definita di strada. La sua preghetta è stata definita di due fattaccio e di due fattaccio. La sua preghetta è stata importante in alcuna di un'imposte. La sua preghetta è stata definita di un'imposte. Grazie.